Era conosciuto con 36 alias diversi, il ladro già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato sabato scorso dagli agenti del commisariato di Fano sotto la guida del dirigente Stefano Seretti. Si tratta di Nasser Elmaz, un macedone di 47 anni che aveva il vizio di rubare nelle abitazioni dei quartieri fanesi. Agiva principalmente a bordo di uno scooter nero nel tardo pomeriggio quindi all'imbrunire e faceva spesso dei sopralluoghi per verificare se i proprietari fossero in casa. Per avere la certezza di poter agire indisturbato suonava i citofoni e se rispondeva qualcuno con la scusa di cercare alcuni suoi amici connazionali riusciva ad ottenere informazioni utili a mettere a segno il colpo. La polizia però con un'operazione rapida ed efficace è riuscita ad arrestarlo in flagranza di reato mentre stava uscendo da una casa in zona Carrara. Aveva con sé un lenzuolo, rubato pure questo, in cui aveva nascosto l'area furtiva tra cui più di 150 orologi, gioielli e denaro contante mentre in un calzino di spugna introdotto nelle tasche dei pantaloni aveva infilato ulteriori munili. Il valore del bottino si aggira attorno ai 20.000 euro. Con sé aveva anche gli arnesi da scasso, un piede di porco e tre cacciaviti. Le perquisizioni nella sua abitazione all'Arzilla di Fano, dove vive con la moglie, hanno portato poi al rinvenimento di ulteriori preziosi come questi che verranno custoditi al commissariato in attesa di ritrovare i legittimi proprietari. Siamo riusciti ad arrestare un pericoloso malvivente, un pericoloso ladro che riusciva a compiere almeno anche due furti al giorno nella città di Fano. Si concentrava soprattutto nelle zone della Trave, di Centinarola e anche di Bellocchi. Si introduceva all'interno delle abitazioni, questo nelle ultime settimane a Fano, nel mese di settembre. Siamo riusciti, anche grazie a segnalazioni dei cittadini, ad individuarlo. Gli siamo stati dietro e sabato l'abbiamo finalmente arrestato. È stata molto rapida l'attività perché dal giorno in cui gli siamo stati dietro al momento dell'arresto sono passate veramente pochissime ore. Aveva diversi precedenti penali, tra l'altro. Sì, molti precedenti, proprio per furti in abitazioni, ma anche per rapina, per spaccio, per lesioni. La quasi totalità di furti in abitazione che sono stati compiuti a Fano nel mese di settembre sono quasi sicuramente tutti ad opera sua. Il macedone, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dopo una breve collutazione. Sono stati denunciati in stato di libertà, invece, due fratelli di nazionalità albanese, Doralde e Legion Curti, di 22 e 25 anni. Anche loro già noti alle forze dell'ordine specializzati in furti in abitazione, molti dei quali consumati a fine 2014. La coppia era solita colpire case in zona Gimarra e a San Biagio. In particolare, il 25enne era stato arrestato a Civitanova Marche al termine di una rocambolesca fuga a bordo di un'audirubata, utilizzata per spostarsi sul territorio regionale per commettere furti. In quel caso, l'uomo, dopo aver tentato di investire un poliziotto, aveva ferito gravemente un ignaro automobilista. I controlli capillari sul territorio stanno dando buoni risultati? Sì, danno buoni risultati, soprattutto li andati in una giornata che per noi è particolare, in quanto ricorre alla festa di San Michele Arcangelo, che è il nostro potrettore, il nostro patrono. Io penso che siamo sulla strada giusta. Notevole è stata anche la collaborazione di alcuni cittadini, che ci hanno permesso, con delle loro indicazioni, di arrivare più facilmente agli autori materiali di questi reati. Per cui io dico che questa è la strada da percorrere. Insieme, lavorando insieme, riusciamo a garantire meglio la legalità, ciascuno facendo la propria parte e garantendo la sicurezza a tutti. Speriamo di continuare così, ma sono pericioso.